questa è un'altra funivia della panoramica che fa? che cosa stai? dal millenone tre al due millenone cosa stai a toller? che stai a toller? che stai a toller? non ho scelto sono scelto due al due millenone guarda che troppo ciao che inizia radio lago di gara anche la C'è il sostegno Ah, qui c'è la buigata Ah, qua c'è la buigata Ah, qua c'è la buigata Questo è la buigata Lì c'è la buigata C'è la buigata Ah, qua c'è la buigata Che abbiamo fatto prima Sì 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 Buon appetito! Hanno diretto quindi ci sono due queste euro Dovano Beh, ma voi, è la pizla illa, pizzo sollega, è, o, bo, resto è col fosco. Siamo arrivati. Qua c'è il rifugio. Siamo arrivati a Milano, Porta Gallivaldi. Mamma mia! Stazione di Montevallo. Vado su e torno e giù. E' bello. Andiamo alla prossima, andiamo alla riscesa. Prossima. Grazie. Grazie.